Salve, sono Martina Zanza Pellerino, faccio parte del team medico-scientifico dell'azienda Cell Wilbing e sono un dottore in nutrizione clinica, master in sviluppo agroalimentare, laurea in bromatologia, esperto di epigenetica, nutrigenomica, nutrigenetica e naturopatia. Quello di cui ti voglio parlare è il fenomeno della disbiosi intestinale. Penso che tutti noi sappiamo che cosa sia la mancanza di equilibrio nella microflora intestinale. Voglio spiegare con le informazioni e i nostri programmi che cosa possiamo fare per migliorare il tuo benessere intestinale attraverso gli indicatori del microbioma. Sicuramente sei d'accordo con me sul fatto che viviamo in un ambiente altamente contaminato da metalli pesanti, dalle radiazioni elettromagnetiche, da inquinanti ambientali che generano in gran parte lo stress metabolico, lo stress fisico e infine anche lo stress funzionale. L'intestino è collegato al sistema nervoso, è chiamato cervello viscerale ed è collegato con doppia rete con la testa. Quindi gli episodi cronici di ansia, di nervosismo, lo stato di apatia, la tristezza o la depressione hanno un legame diretto anche con il sistema gastroenterico ed in particolare con la salute della flora intestinale. Siamo in grado di dare con il programma di miglioramento della salute informazioni accurate e personalizzate e tu avrai lo strumento necessario per la prevenzione della disbiosi intestinale e anche per il suo trattamento nella prima fase. Le informazioni per il miglioramento del benessere sono presenti in una tabella molto semplice dove ci sono i nutrienti essenziali di cui tu hai bisogno per correggere gli squilibri nella flora intestinale, quale indicatore è assolutamente prioritario, da considerare o addirittura consigliabile. Queste informazioni sono presenti in un report dove trovi anche le informazioni su vitamine, minerali, amminoacidi, antiossidanti, carica tossica dei contaminanti e la tua sensibilità alimentare. Cell Will Being è per te uno strumento per migliorare la tua salute che dovresti sfruttare. Il sistema gastrointestinale può essere ottimizzato solo con la prevenzione e noi siamo qui per aiutarti. Oggi puoi sperimentare la nuova tecnologia S-Drive che si basa su questi principi. Puoi conoscere in soli 12 minuti quali fattori stanno condizionando la tua salute e il tuo benessere. Chiamalo 0187 17 80 859 oppure scrivi a info at epinutracel.it